Ciao dolcezze, nuovo video Allora, video dove applico lo smalto Ho appena tolto lo smalto che avevo rosa dell'Eurospin con questo qui del Lidl, leva smalto senza acetone anche se puzza ho messo la base io uso come base questa qui perché non ne ho altre e non ne ho comprate altre lo smalto trasparente, top coat della Lidl poi, adesso ho le unghie così, ne sono un po' corte e un po' lunghe alcune, quindi vabbè non ho neanche una lima quindi non le posso neanche limare ma appena posso uscire, appena esco comunque vado a prendere una lima adesso non posso zoomare quindi vedrete malissimo e lontanissimo le mie unghie smaltate ma poi ve le avvicino dopo facendo i video non posso zoomare ce l'avvicino, aiuto aiuto, aiuto, aiuto non posso zoomare e quindi mettiamo lo smalto ma non so quale mettere perché questo qui è chiaro vintage move è chiaro questo qui è rosso potrei anche metterlo rosso questo qui me l'ha regalato il legno potrei anche mettere questo piccolino rosso oppure un viola anche se non è più Halloween Purple Rain come la canzone di come la canzone che non mi ricordo di chi è Purple Rain di Prince Purple Rain Cien Sien oppure Very Very Perry Very Perry che è un fucsia non lo so questo ne ho tanti di smalti l'avete già visti questo qui Fabulous Fucsia che è un fucsia chiaro sta cosa pensare a vicino a vedere con la luce che io parlo con il germano vabbè blu questo qui ma dovrei avere le unghie lunghe ha i glitter ed è bellissimo numero 424 della Essie io sono indecisa tra questo viola qui oppure questo oppure quello rosso quale scegliamo ragazzi ne ho veramente un quintale io andrei sul rosso anche perché il viola sì siamo d'autunno praticamente d'inverno quasi però non lo so se va bene non lo so se va bene così oppure questo piacerebbe che rispondeste ma non potete rispondere questo ha i glitter andava bene per Halloween adesso tutti i giorni non va bene quindi o questo viola o quello rosso non lo so mettiamo quello rosso che è anche più facile da applicare quello rosso allora Endemol Shine Rimmel London questo si chiama non lo so come si chiama che numero è non si sa 60 second super shine bello però 315 Queen of Dart bello rosso vabbè ovvio non potevo scegliere il viola io amo il rosso sul classico sono andata c'è anche la lampada la candela del Lidl che non mi piace non la ricomprerò di Halloween questo è nuovo si vede adesso lo applico prima su una mano poi sull'altra e poi vi faccio vedere ma è un classico rosso bellissimo comunque grazie la hadnò non qui è un classico rosso di di il Grazie a tutti. Ok, la vicina mi ha visto, chissà cosa ha pensato, è un bellissimo smalto rosso meraviglioso, io sapevo che bisogna lasciare un piccolo spazio bianco sull'unghia, non riempirla completamente, quindi questo è l'effetto mio, bellissimo. Mettiamo l'altra mano e poi vi saluto, video super breve, scusate, il neo qui. Spero questa location mi piaccia, anche se non è che mi piaccia sinceramente, ma quando c'è brutto tempo come oggi devo per forza usare la ring light perché sennò i video non vengono bene. Questo video smetti lo smalto, me l'ha richiesto Michela Carlo Magno, ciao Michela grazie, grazie, appena comprerò qualcosa al Lidl di nuovo farò la commessa antipatica del Lidl che mi è stato richiesto. Sì, e poi anche l'hitting sound, patatine fritte, non vengono mai, perché quelle che faccio in casa non vengono mai fritte e non vengono mai rettangolari, sottili come quelle del fast food, quelle che faccio io. Però vabbè, mangerò delle patate con voi, anche se non sono fritte va bene lo stesso. Bruno, per il video Bruno Bucciarati, per il video eating sound che mi hai richiesto fammi sapere se va bene. E poi devo ancora registrare il video motivazionale in collaborazione con Creale ASMR, se riesco magari domani lo carico, sperando che ci sia un pochino di sole così non mi acceco. Seconda mano di smalto, cioè una passata sola, ho fatto, adesso faccio l'altra mano, ok? Anche se non vedete niente non posso zoomare, mi dispiace ragazzi. Anche se non vedete niente non posso zoomare, mi dispiace ragazzi. ok ragazzi smalto messo una passata sola è lucidissimo il pennello è pieno di smalto nuovo nuovo bellissimo sulle unghie lunghe lucidissimo una meraviglia io ne avevo altri ma non della rimmel sono veramente bellissimi io non metto più nessuna base sopra perché è già lucido ed è bellissimo quindi vi lascio così con la mia mano rossa alcune unghie lunghe alcune unghie corte perdonatemi abbiate pietà di me buona serata carezza per voi e a presto se spengo la ring light magari quella lampada lì viene meglio si vede meglio però se spengo la ring light non vedete più niente quindi buonanotte 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 proviamo a spegnare la voglio vedere come viene a presto grazie a tutti grazie a tutti